Concessionari all'auto, a montagna in Valtellina. Ad una settimana esatta dall'inizio della manifestazione, presentata ufficialmente a Mello nella serata di ieri, Gusto Zando, Bresa Olando, costiera dei cechi in cantina, l'appuntamento enogastronomico d'eccellenza di inizio autunno. Organizzatori dell'iniziativa, il Consorzio Turistico Porte di Valtellina, assieme a nove comuni, pronti a svelare ogni propria attitudine all'ospitalità, alla conservazione delle proprie bellezze naturalistiche ed architettoniche e, naturalmente, alla ristorazione. Albaredo per San Marco, Ardenno, Buglio, Cercino, Civo, Dazio, Gerola Alta, Mello e Traona. Stefano Scetti, presidente del Consorzio Turistico Porte di Valtellina e poi Giorgio De Giobbi, assessore al turismo della comunità montana Valtellina di Morbegno. Questa manifestazione è unica nel suo genere perché riesce a mettere assieme tutto il mandamento di Morbegno, dalle aerobie alle retiche, promuovendo da un lato le produzioni tipiche molto importanti della zona, dall'altro anche la parte più naturalistica e i borghi caratteristici che ospitano queste cantine, questi scorci particolari che poi accolgono le persone nelle degustazioni. In tutte le cantine troveremo le peculiarità e i valori del nostro territorio. Verranno esaltate le tradizioni, i prodotti tipici che la nostra terra offre, dal vino al bitto e tutto quello che i nostri produttori possono offrire. Diamo allora un'occhiata ai ghiotti percorsi dell'edizione 2017. I comuni attraverso i quali si ripaneranno le tappe della manifestazione Gusto Sando saranno Albaredo, Gerola Alta, Dazio e Caspano, nel fine settimana a cavallo fra il 30 settembre e il 1 ottobre ed in quello seguente fra il 7 e l'8 ottobre. La regina della salumeria valtellinese sarà invece celebrata nell'iniziativa a lei dedicata, Bresa Olando, che si snoderà fra i comuni di Ardenno e Buglio negli stessi due weekend. A Mello, sede della presentazione, tra One e Cercino, toccherà invece la Kermesse per antonomasia legata ai vini valtellinesi con l'ottimo compromesso che unisce enologia a gastronomia. La costiera dei cecchi in cantina ha un insieme di itinerari sullo sfondo di antiche vestigia attraverso i quali sarà possibile assaggiare abbinamenti a base di vini di valtellina, formaggi, salumi e dolci. All'interno delle nostre cantine si può trovare il dolce tipico di Mello, che è il Bungeux, che viene cucinato nel vecchio forno del paese, proprio un antico forno denominato dell'Isabella, che anche quest'anno è dentro nel circuito del Le Panneur, sponsorizzato da Regione Lombardia. Oltre al Bungeux si trovano i prodotti dei formaggi d'Alpe, i formaggi grassi, la mascarpa, oppure i classici pizzoccheri e chat di valtellina. Ultimo della lista, non certo per importanza, l'appuntamento con il Sentiero del Vino, altro percorso intitolato alla filiera corta e per il quale il titolo dice tutto. In itinere i turisti del gusto avranno modo di rallegrare il proprio palato, immergendosi in paesaggi fatti di borghi antichi, terrazzamenti e panorami tipici della bassa valle. Cristian Borromini, presidente della comunità montana di Morbegno. Ci stiamo accorgendo che il turismo dell'Abrianza, e non solo, sta seguendo il nostro territorio, soprattutto su un discorso di senteristica, di terrazzamenti e dei piccoli borghi. Questo è un bel segnale per il futuro, per il nostro mandamento e alla fine anche per tutta l'intera provincia.